Deve essere una specie di tornado fra le lenzuola. Cosa vuoi che ne sappia. Non ci sei ancora andato a letto? E scusi, ma per quale motivo rischiare la vita? Io l'amo. Già, ogni tanto me ne dimentico. Possibile che nessuno capisca più cosa vuol dire amare. La tensione, le pene, l'incertezza, i sudori freddi, il senso di nausea, quell'occlusione alla bocca dello stomaco. Insomma, dove è andato a finire il romanticismo? Non lo so, ma dalla tua descrizione in ospedale. Tu stai rischiando di...